Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è sabato 8 aprile 2023, il giorno prima di Pasqua e quindi questo mi dà l'occasione intanto di augurarvi subito una buona Pasqua, una buona festività sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista civile così per riposarci e magari fare qualche escursione qui nei dintorni. Vediamo subito l'almanacco del giorno per vedere che cosa si celebra oggi più che si festeggia. Ebbene oggi è sabato santo e la Chiesa ricorda la discesa di Gesù agli inferi. Un fatto inquietante questo che però evidenzia la vittoria sulla morte e la redenzione dei giusti prima di lui, prima di Gesù. E' il giorno dell'attesa, dell'attesa della Ressurrezione. Oggi le celebrazioni insomma culmineranno nella veglia pasquale che molte Chiese celebreranno nel tardo pomeriggio fino poi tarda sera alla mezzanotte quando suoneranno le campane per il giorno della Ressurrezione. Le previsioni del tempo. Ecco la grafica. Tempo incerto sulle Marche ma questo non impedirà a molte persone a visitare il nostro territorio. Sabato dunque all'insegna della variabilità sulla nostra regione, con piogge in Apennino e occasionualmente sulle coste e sulle pianure. Meglio andrà verso sera. I venti sulle coste espireranno con una tensione debole da est e sud est così come nell'entroterra. E le temperature sono leggermente alzate, leggermente ancora non fa molto molto caldo. 7 gradi la minima, 14 la massima. Quindi un golfino in più, magari anche un giubbotto per poi visitare tranquillamente il nostro territorio. Ciò detto, apriamo i giornali a partire oggi dal Corriere Adriatico. Vediamo l'apertura su Fano e vediamo che si parla di sanità con un articolo di Lorenzo Furlani. A Fano, lab di medicina interna, dateci 50 posti e letto di ortopedia. Sono le richieste del sindaco Massimo Seri che vengono fatte alla regione. La regione Marche nei giorni scorsi ha presentato a Urbino la bozza del piano sanitario regionale. Non era presente il sindaco di Fano, Massimo Seri, che ora evidenzia le richieste dei fanesi. Fano non vuole restare al di fuori di tutto ciò che si programma e magari si privilegia Pesaro ed Urbino. Fano è la terza città delle Marche e non è Cenerentola, ha dichiarato il sindaco Massimo Seri. Il suo timore è che nel riassetto dei servizi, dopo la recente riforma regionale, Pesaro abbia l'attenzione che merita, ovvero la costruzione di un nuovo ospedale. Urbino, la sensibilità dovuta al presidio di riferimento dell'entroterra, come è giusto che sia, così Fano rischia di restare penalizzata. Insomma, il privilegio è Pesaro per quanto riguarda la costa, Urbino per quanto riguarda l'entroterra. E Fano? Punto interrogativo. Ebbene, il sindaco rivendica per la città della fortuna pari dignità con Pesaro e Urbino. Chiede che mantenga lab di medicina interna e specialistica, confermando la vocazione della chirurgia programmata e sviluppando una collaborazione, in questo senso, con l'Università di Ancona. Chiede inoltre che il Santa Croce abbia i 50 posti letto di ortopedia congelati da 5 anni e dovevano essere destinati alla clinica privata, già prevista a Chiaruccia, ormai clinica che non si farà più, almeno che questi posti possono essere assegnati al Santa Croce. Il sindaco Massimo Seri apprezza l'investimento della regione sulla palazzina dell'emergenza Urgenza del Santa Croce. Sono 25 milioni di investimento, non è poco, ma c'è bisogno, dice, anche di contenuti, non solo di involucri, non solo di palazzi, ma ci vogliono posti letto, tecnologie per qualificare l'offerta ospedaliera. e vedremo come verrà trattata Fano nel piano sanitario regionale. Santa Croce, le specialità per un vero ospedale. C'è anche l'innovazione della collaborazione con il medico di base. Questo è frutto di un articolo di fondo che si collega, ovviamente, con l'articolo di apertura. Per quanto riguarda la cronaca, vediamo che l'autopsia che si è verificata nel corpo di Giacomo Cesaretti, la giovane vittima di un incidente sul lavoro che si è verificato in un'azienda della zona industriale di Bellocchi, ha confermato le prime ipotesi. Il povero Giacomo è morto schiacciato dal carro ponte. Nulla osta dunque per la sepoltura di questo ragazzo. Così è stato disposto dall'autorità giudiziaria nel pomeriggio di ieri. L'autopsia è stata realizzata da Marco Palpacelli, che è un anotomo patologo degli ospedali riuniti di Torrette di Ancona. Il giovane operaio è deceduto a causa dei tremendi traumi da schiacciamento riportati nell'infortunio. Purtroppo una tragedia che ha lasciato sgomenti, non solo la famiglia ovviamente, ma tutta la comunità locale. Torniamo a vedere le iniziative di Pasqua, anzi del dopo Pasqua, perché in questo articolo si evidenzia la festa di Ponte Metauro, una festa tradizionale che, avendo conosciuto un momento di stanca in questi ultimi anni, vuole essere riqualificata sia dall'amministrazione comunale, sia dai giovani che frequentano la parrocchia di Santa Maria di Ponte Metauro. Ieri è stata convocata a questo proposito proprio una conferenza stampa nel nuovo ufficio turismo gestito dal Comune in Piazza 20 Settembre. L'ha convocata l'assessore al turismo e agli eventi Etienne Lucarelli. C'è tutta una serie di iniziative per rivalutare questa festa. È il terzo giorno di Pasqua, ovvero martedì. Un giorno tradizionale, un tempo, era molto molto frequentata la pineta di Ponte Metauro, dove i fanesi si recavano magari anche a piedi in pellegrinaggio, percorrendo i quattro chilometri dal centro storico fino a Ponte Metauro, per consumare un picnic e gli avanzi del pranzo di Pasqua, soggiornare all'aria aperta per assaporare i primi tepori primaverili, per far giocare anche i bambini. Ebbene, questo bellissimo contesto ambientale si è conservato, quindi la pineta attende di ospitare tanti tanti fanesi e lì ci saranno tante tante animazioni. Ci sarà la pandolfaccia che allestirà un campo mediovale, ci saranno gli arcieri dell'Iocorno, ci saranno giochi in legno per far divertire i bambini, ci saranno anche gli artisti di strada. E non dimentichiamo ovviamente il senso religioso della festa. Il santuario sarà aperto dalle 7.30 ininterrottamente, dalle 7.30 del mattino fino alla 21 di sera, e ci sarà una serie di celebrazioni religiose. Cominceranno quelle, cominceranno dalle 7.30, da quella celebrata dal parroco Monsignor Antonio Inter Guglielmi, e poi ci saranno tante altre messe. Ce ne sarà una alle 9, celebrata da Don Francesco Pierpaoli, un'altra alle 11, da Don Giorgio Giovannelli. Alle 12 sarà celebrata dal parroco, dal sacerdote della chiesa di Camminate, Alessandro Pierotti, nel pomeriggio alle 16, da Don Marco Presciutti, che è il vicario della diocesi, e poi alle 18 dal vescovo Armando Trasarte. Ci sarà anche una lotteria benefica per aiutare i poveri della parrocchia. Quindi ricordatevi, mettete un segno, martedì, festa di Ponte Metauro. Una volta era anche mezza festa, e i negozi stavano chiusi, almeno nel pomeriggio a Fano. Oggi magari non si fa più, però una capatina a Ponte Metauro vale la pena di farla. E poi vediamo quello che accade a Fossombrone, a questo articolo di fondopagina. La sede di quartiere dedicata a Cornettone. A Ghilardino, l'associazione ricorda l'ex assessore scomparso a ottobre. L'associazione di quartiere ha intitolato la propria sede, già scuola elementare Aldomoro, a Rolando Cornettone, compianto presidente della stessa e assessore ai lavori pubblici all'urbanistica del comune di Fossombrone. Nella passata consigliatura, retta dal sindaco Gabriele Bonci e del Movimento 5 Stelle. Un mandato che ha retto con grande competenza, essendo anche ingegnere e Cornettone, una persona garbata e corretta. Quindi a lui la gratitudine dei cittadini e degli abitanti, soprattutto del quartiere. E poi c'è anche grande soddisfazione a Fossombrone per l'intervento che si sta facendo in corso Garibaldi. commenti positivi anche per la celerità con cui questi lavori vengono eseguiti. La pavimentazione è in fase di realizzazione da Portafano a San Filippo, dopo che Marche Multiservizi ha provveduto ad ammodernare tutti i servizi, tutte le condutture che sono sotto la superficie, ed è stata completata la gettata in cemento, è stata avviata la messa in posa degli stessi sanpietrini preesistenti. Quindi sono stati tolti, messi da parte e poi ricollocati nella sede stradale. A Pergola, a Pergola, il dolore prepara la gioia, siate umili anche fiduciosi. Sì, si colloca questo articolo su Pergola, ma in realtà coinvolge tutta la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. E infatti è il messaggio del Vescovo Armando Trasarti in occasione della Pasqua, un messaggio rivolto a tutti i fedeli. Un messaggio Trasarti sul paradosso della Pasqua intitola Il Corriere Adriatico in questo articolo di Andrea Maduzzi. Rimbalza da Pietro ad Alda Merini, prendendo in prestito quindi anche Frère Roger, fondatore della comunità di Taizè, e Ernesto Oliviero, inventore del servizio missionario giovani. È il messaggio pasquale di Armando Trasarti, Vescovo della Diocesi, che cannota quella tensione verso la gioia piena che dovrebbe rappresentare la Pasqua. Una gioia piena alimentata dalla speranza che non deve mai venire meno, ha detto il Preside, che è la parola chiave che poi si può tradurre anche in fiducia, quindi speranza e fiducia, i due elementi per assaporare il messaggio pieno della Pasqua. Vediamo anche Senigallia. A Senigallia c'è un'indagine della Guardia di Finanza che sta ottenendo grandi risultati. Fatture false e soldi riciclati in Cina. Scoperta una maxifrode, pensate, da 150 milioni. E ovviamente non interessa soltanto la città marchigiana, ma questa indagine si è stesa un po' in altre regioni italiane. Un blitz della finanza ha fatto sì che venga arrestata una donna e una cinese di Corinaldo. 18 i denunciati. Chiuse 15 aziende fantasma in Italia. è il risultato di un'indagine su una maxifrode fiscale appunto da 150 milioni che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza tra Toscana, Lombardia e Marche. Emettevano fatture false poi rivendute ad imprenditori in tutta Italia per evadere il fisco riciclando il denaro. Una imprenditrice cinese residente a Corinaldo figura di spicco questa dell'organizzazione criminale è stata arrestata e si trova ora ai domiciliari come disposto dal GIP di Ancona. E nel corso di questa indagine sono già stati sequestrati gioielli, conti correnti, orologi e supercar per 30 milioni pari all'IVA e VASA. Insomma, era già molto fruttuosa questa attività. e poi anche Senigallia si attrezza per l'estate vediamo che il Corriere evidenzia mercatini, mostre, musei aperti, prove d'estate scattano gli eventi, stand al foro a Nonario, orari straordinari per i luoghi d'arte, fotografia e musical un ricco weekend. E poi vediamo una partita del cuore, una di quelle belle partite a cui partecipano tanti personaggi, in questo caso anche il CT della Nazionale Roberto Mancini. Scenderà in campo anche lui per la partita del cuore insieme per Senigallia in programma il 16 aprile alle 15 allo Stadio Bianchelli di Senigallia. Giocherà insieme ad altri VIP come Ciro Ferrara, Fabio Galante, il DJ Ringo, Federico Quaranta e Niccolò De De Vittis direttamente dalle Iene. Quindi veramente una partita da gustare per tutti i tifosi. Vediamo anche una notizia che ci viene dalla Regione. Ecco qui la pagina e parliamo ovviamente delle iniziative turistiche di Pasqua, è un argomento oggi irrinunciabile. Le città d'arte sold out per il Ponte di Pasqua. La cultura traina il turismo, veramente musei, zone archeologiche, mostre d'arte esercitano veramente una forza d'attrazione che fa spostare ingenti quantitativi di persone. La cultura traina il turismo, più 12% di presenze sulle 2022 e strutture piene all'80%. Nella nostra regione non manca l'offerta da Urbino ad Ascoli il viaggio è servito. E per quanto riguarda la nostra provincia vediamo una dichiarazione del vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini per Pasqua ha detto abbiamo fatto uno sforzo enorme. Abbiamo aperto e messo in rete il polo dei musei, la sonosfera, l'area archeologica, i musei della bicicletta, quello di Ocesano e le officine Benelli. Il nostro obiettivo è dare un grande benvenuto ai turisti e ai nostri concittadini perché saranno i primi a fruire di queste opportunità e quindi i nostri primi ambasciatori. E va verso il sold out, il recettivo della città ducale di Urbino che si è organizzata con le sue migliori offerte. Ovviamente la casa di Raffaello e Palazzo Ducale stanno in primo piano. Palazzo Ducale lo ricordiamo ospita la Galleria Nazionale delle Marche e poi c'è anche tutta una serie di altre proposte di cui parleremo in seguito. Il tempo? Ma il tempo è variabile così come abbiamo detto nelle previsioni. Aria fresca ma le gite si potranno fare. Annunciate piogge per oggi e domani da qualche parte non da per tutto però a Pasquetta andrà meglio quindi magari una passeggiata con l'ombrello ma dovrebbe essere irrinunciabile. E poi volevo segnalarvi un articolo che riguarda eccolo qua Casa Rossini Casa Rossini senza le impalcature la dimora restaurata torna nuova. Casa Rossini sarà una delle mete più visitate nel corso di questo weekend di Pasqua e quindi ha svelato parte della sua bellezza così come è stata rinnovata riqualificata con i lavori in corso. Alle battute finali l'intervento conservativo il cantiere si concluderà entro alla fine di questo mese del mese di aprile. Per Pasqua dunque Casa Rossini scopre la facciata rimessa a nuovo e poi in sicurezza sollevando di poco lo sguardo verso l'alto ci si accogge già dello splendore che acquisterà questa costruzione del 1700 che vide la nascita del piccolo Gioacchino Rossini che poi diventerà una delle stelle del firmamento della musica internazionale. Ebbene questo quanto ci annuncia il Corriere Adriatico voglio ancora farvi vedere la pagina di Urbino la pagina di Urbino chiese aperte torna il tour e in piazza c'è l'artigianato sono le iniziative per il periodo pasquale è un weekend pasquale ricco di proposte dedicate anche ai più piccoli oggi domani e lunedì torna infatti l'iniziativa chiese aperte promosso dalla Proloco di Urbino in collaborazione con l'amministrazione comunale questa iniziativa permetterà di visitare le chiese e gli oratori della città dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e saranno visitabili in via Mazzini San Francesco di Paola sede della confraternita del Corpus Domini in via Barocci l'oratorio delle Cinque Piaghe in via Budassi Santa Maria della Torre e Sant'Andrea Avellino in via Raffaello San Sergio in via Battisti Santa Maria degli Angeli domani e lunedì sarà inoltre possibile visitare con ingresso gratuito anche la sinagoga dalle 10 alle 12 e quindi veramente ce n'è di che vedere invece a Fano le cose non vanno così bene come in altre parti e lo evidenzia proprio il resto del Carlino la Fano romana chiude nelle feste come i negozi sbarrati gli scavi della Memo del Teatro della Fortuna del Palazzo dell'Urbanistica una guida dice inaudito proprio nei giorni in cui si aspetta la maggior parte dei turisti Fano chiude le sue bellezze chiude termina nasconde le sue risorse di attrazione ma è una cosa inspiegabile la Fano romana sotterranea chiusa domenica e lunedì di Pasqua non si potranno visitare gli scavi della Memo né quelli del Teatro della Fortuna o del Palazzo dell'Urbanistica tanto che la guida turistica autorizzata Manuela Palmucci fa sapere che per il periodo pasquale l'ultima visita a Fano romana è proprio oggi 8 aprile alle 16 e beh insomma è una decisione veramente sorprendente questa da parte dell'amministrazione comunale facciamo appello all'assessore alla cultura Cora Fattori perché riveda questa decisione ebbene sappiamo benissimo che il Teatro Romano è chiuso da un'epoca immemorabile gli ultimi scavi di via Vitruvio ovviamente ancora non si possono vedere perché lì è tutto sigillato in attesa che arrivano i finanziamenti per proseguire le ricerche chiusa da un'epoca lunghissima la chiesa di San Pietro in valle una delle più belle chiese barocche della nostra regione e beh insomma facciamo tanto appello facciamo tanto conto sulla forza d'attrazione dell'archeologia e poi l'archeologia a Fano nel weekend di Pasqua viene chiusa viene sotterrata e quindi non si parla più veramente è una cosa inconcepibile e purtroppo anche la chiesa la Pinacoteca di San Domenico rimane chiusa dovrà attendere il 15 aprile per poi essere aperta questa gratuitamente per tutta l'estate e ancora sulla pagina di Fano vediamo una presa di posizione di lega ambiente una voce fuori del coro per quanto riguarda i progetti dei impianti agrivoltaici che vengono così richiesti in tutto in tutto sono in parte del territorio fanese sono impianti che hanno suscitato la reazione avversa da parte delle popolazioni che abitano nel circondario invece la lega ambiente attacca dice questo il futuro non rinunciamo alla transizione ecologica per magari per motivi elettorali è vergognoso l'era del petrolio sta finendo si parla in particolare dell'impianto di Cartoceto e quello del parco eolico nel comune di Fano quello che dovrebbe sorgere nei pressi di Sant'Orso e poi vediamo ancora la pagina di Urbino sul resto del Carlino 150 anni fa apriva la casa di Raffaello era il 6 aprile 1873 quando il museo si mostrò alla città per acquistare l'immobile arrivarono soldi pensate da tutto il mondo perfino dall'Australia ebbene ieri ieri 20esimo anniversario dell'apertura di uno dei musei che ha segnato la storia del turismo italiano la casa di Raffaello la casa dove è nato il grande pittore il divino pittore uno dei massimi esponenti della cultura rinascimentale italiana destra una grande suggestione sapere che in quella occasione che lì dentro ha vissuto il piccolo Raffaello che poi ha spiccato il volo prima a Perugia allievo del Perugino e poi a Roma dove ha compiuto quei grandi capolavori ebbene è una forza di attrazione veramente importante nel celebrare Volponi si dimentica Urbino è una presa di posizione del consigliere regionale Biancani il quale fa un emendamento in Commissione Cultura figurano iniziative a Fermo e a Porto San Giorgio Vittoria Postuma per Cornettone abbiamo visto l'articolo sul Corriere Adriatico arrivano i soldi per la scuola l'ex assessore scomparso d'ottobre scorso aveva a lungo lavorato al progetto per il finanziamento è il gruppo di minoranza progetto comune che dà notizia per quanto riguarda il finanziamento di 3 milioni per la sistemazione antisismica della scuola elementare del capoluogo si tratta di soldi del MIUR ovvero del Ministero delle Università e della Ricerca appartenenti al fondo Sisma 120 allo stesso fondo che appartiene il finanziamento dato all'ex Carducci di Fano vediamo anche qualche notizia su Pesaro per quanto riguarda il resto del Carlino addio ai grandi serbatoi bomboloni della Fox al posto del petrolio il gas naturale la società della famiglia Berloni ha presentato un progetto per la riconversione e gli attuali serbatoi verranno rimossi e i rifornimenti arriveranno da un gasdotto che passa da Villa Cecolini un altro paesaggio per quanto riguarda l'immediata periferia fanese e voglio prima di salutarvi darvi anche qualche notizia di sport l'alma esprime ancora la sua soddisfazione per il successo contro il San Benedetto la vittoria su questa squadra mancava da 91 anni pensate stagione 1931 32 l'autore dell'1-2 Cecconi rete di spalla bellissimo questo gol e invece Repesa dice non sono uno che molla per quanto riguarda la vis ho ancora fame e chiarisce le dichiarazioni del dopo Trento eravamo partiti per salvarci ma ora sarebbe un peccato mancare i playoff ed era l'ultima notizia io vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro sentitamente una buona Pasqua a risentirci martedì prossimo grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto